si prepara ancora dai 9 metri quinta stagione a Monza deviazione col nastro Rossini la tiene su Orduna per la pipe d'Ingapé e Jovic si è fatto molto male il primo a soccorrere lo stesso è Ngapé questo sport è differente però che botta Jovovic no no gli ha fatto veramente male qua ragazzi gli ha preso in pieno volto e non se l'aspettava Jovovic perché arrivava dalla battuta deve andare il dottore perché è una giocata incredibile ma il problema è che Jovovic stava andando avanti no ecco basta non sono preoccupato per niente applausi del pubblico secondo te chiederà ma qual è il punteggio chiederà che sport faccio mamma mia